Adesso ci sono 2000 città che insieme a noi accendono un monumento, un simbolo della loro città, anche in paesi dove c'è la pena di morte e alcuni di loro lo fanno anche schierandosi apertamente contro il loro regime. Iniziamo da una data molto importante perché da lì tutto nasce. 1786, il Gran Lugato di Toscana dice no alla pena di morte. Has the impossible become possible? No, not yet, for everyone. A tree grows without making any noise about it. Le radici della vita, le radici della vita sono quelle da cui dobbiamo assolutamente ripartire. Pena di morte mai. Pena di morte. Pena di morte. Assisten al sole. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Quel pollice su è simbolo di vita e adesso si illumina anche il Colosseo. Grazie a tutti. Pollice su, tutti col pollice su. E questa è l'immagine più bella, pollice su, con Ray Cron, dieci anni nel braccio della morte dell'innocente. E qui finalmente lo può testimoniare. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.